Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del notiziario è dedicata alla protesta dei dipendenti della residenza sanitaria assistita di Caposoprano a Gela. Ripendicano il pagamento degli stipendi. Il sindaco Domenico Messinese si affianca alla loro lotta. Sentiamo. Quali sono i motivi di questa protesta, ennesima protesta? Naturalmente in primis il dare luogo a un servizio oramai è diventato quasi paradossale perché l'Aspi ci manda dei pazienti senza che ci paghi alla fine. È un servizio ottimo che serve al territorio, fatto da personale ben qualificato. Non si capisce perché di nuovo bisogna creare una situazione di servizio per la città. Quindi noi chiediamo innanzitutto una chiarezza per quanto riguarda l'RSA. In primis naturalmente parliamo dei pagamenti perché anche noi abbiamo delle famiglie. Ci sono delle madri di famiglia, dei padri come me di famiglia e quante altri. Non si può andare avanti in una situazione in cui veramente in un modo paradossale l'Asp manda dei pazienti senza mai pagare. Da quanti mesi non percepite lo stipendio? Noi non percepiamo lo stipendio da quasi 14 mensilità. Abbiamo abbondantemente superato un anno. Si è visto proprio il grado di disagio che stiamo vivendo. E' grazie alla nostra amministrazione che devo dire che dobbiamo esserne atto. Anche il sindaco ha fatto di tutto per cercare intanto di rendere legittime tutte le loro avversità. Ma adesso che le hanno risolte non vedo perché questo direttore generale si rifiuta ancora oggi di pagare con tutto un giudice che gli dice di pagare. E ti risponde? Non lo so. L'RSA da parte dell'amministrazione ha visto quali erano le problematiche che erano sorte in passato. Fra altre cose sono state tutte superate in modo legittimo e trasparente. Quindi per noi la struttura è in grado di operare liberamente e di fornire soprattutto un servizio per il territorio. Ora come tutte le contraddizioni dell'Asp ci sono delle resistenze. Se prima ci potevano essere dei dubbi che l'amministrazione comunque è riuscita a superare con documentazioni e con delle verifiche ora da parte dell'Asp si deve concludere e quindi consentire di poter pagare questi lavoratori che ritorno a dire offrono un servizio alla cittadinanza, offrono un servizio alla città di Gela. Non ho capito se questa resistenza è dovuta a un altro tentativo di togliere un altro servizio alla città di Gela cosa che l'Asp ultimamente sta facendo di frequente. Devono rispondere di lesioni personali gravi i due pastori gelesi di 23 e 19 anni denunciati dai carabinieri del reparto territoriale. Secondo gli inquirenti sono stati loro ieri incontrata a Spina Santa ad aggredire altri due pastori impegnati a far pascolare il loro greggio. Un romeno di 50 anni sarebbe stato prima investito e poi aggredito dai due che dopo pochi minuti si sarebbero avventati contro un altro pastore 48enne. L'uomo ha riportato ferite da taglio ma non è in pericolo di vita. Sarebbe stato colpito con un coltello. Alla base dell'accoltellamento ci sarebbero contrasti legati allo sconfinamento dei terreni. Il coltello però non è stato ritrovato. Cerimonia di premiazione degli studenti e del docente dell'Istituto Tecnico Industriale Morselli di Gela, Pietro Giannone, protagonisti del concorso Nuovi talenti d'Europa, macro area innovativa e tecnologica indetto dall'Unione Europea e dall'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale. A premiarli è stato il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, oggi proprio a Gela. Vediamo. È stato il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, a premiare questa mattina le eccellenze del concorso Nuovi talenti d'Europa, macro area innovativa e tecnologica indetto dall'Unione Europea e dall'assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale. Si tratta di alunni dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Morselli, Luca Oceana, Mattia Lagognata, Vittorio Migliore e Giuseppe Traniti, coordinati dal professore Pietro Giannone. Lo studio e la ricerca, detto il governatore, rappresentano la prima leva per il rilancio dello sviluppo della Sicilia e sono felice che tanti giovani siciliani abbiano partecipato al progetto, dimostrando in tutta la Sicilia la capacità di cimentarsi con le nuove tecnologie. E proprio da Gela è partita una risposta alta dalla società e dai giovani che accettano la sfida della quarta rivoluzione industriale che è basata proprio sull'informatica, sulle smart city, sulle nuove tecnologie e sull'economia verde. Pensavo con la preside perché non fare, istituire due seminari per l'anno prossimo di ricerca che coinvolgono magari alcune università, la stessa Eni, proprio nel campo delle tecnologie rinnovabili ma anche nel campo dell'agricoltura. Ne parlerò con l'Eni, vediamo se riusciamo a farlo, io convido proprio di sì. Uno di questi, che è quello proprio sull'innovazione tecnologica, ha visto vincere questi ragazzi, questi quattro ragazzi di Gela che hanno prodotto un'applicazione straordinaria che siamo certi troverà, così come diceva il professore che li ha seguiti, interessi anche nazionali. Abbiamo cercato di valorizzare anche le eccellenze nel primo biennio, infatti abbiamo portato avanti un concorso che ci ha consentito di premiare 50 studenti del biennio. L'anno prossimo cercheremo di coinvolgere gli studenti del secondo triennio perché il nostro obiettivo è quello di creare eccellenze, perché le potenzialità ci sono tutte. I nostri laboratori sono straordinari, i docenti sono molto preparati ed appassionati, quindi penso che abbiamo tutti i numeri per proseguire in questo percorso. Presidente, oggi è una felice circostanza, si celebra il nostro compianto Peppino Impastato e lei l'ha voluto ricordare anche oggi per lasciare ancora un altro spunto di riflessione ai giovani. Ma per ricordare ai giovani siciliani, ai giovani gelesi che debbono essere orgogliosi di essere gelesi e di essere siciliani perché in Sicilia non ci sono solo i mafiosi, ci sono anche quelli che nella lotta alla mafia hanno dato la vita e in questo caso il fatto che sia stato un ragazzo a pagare il suo impegno antimafia deve ricordargli oggi di essere particolarmente vicino perché quel ragazzo ha dato la cosa più grande che può dare un uomo per la società, la propria vita. Valorizzazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile della Sicilia è uno dei passaggi della motivazione degli attestati di riconoscimento consegnati oggi al docente Pietro Giannone e agli studenti. Vediamo. L'attestato di riconoscimento conferito dal Presidente della Regione Rosario Crocetta, la professore Pietro Giannone dell'Istituto Tecnico Industriale Emanuele Morselli di Gela ha un significato altisonante perché proprio il docente ha promosso e coordinato le attività degli studenti nella realizzazione del progetto contribuendo alla valorizzazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile della Sicilia. È un'app che cerca di fondere quelli che sono gli aspetti tecnologici, quelle che sono le necessità del XXI secolo cioè quella di un'attenzione verso le tematiche ambientali, corretti stili di vita e fondendola anche alla manifestazione Expo che l'anno scorso era nel periodo, c'era in contemporaneo con questa attività. Per cui i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di questa applicazione che fonda le due cose l'aspetto prettamente tecnologico con quello che è la cura verso il mondo in cui viviamo. Ma quali sono i progetti per il futuro e a chi dedicano il premio ricevuto oggi dal Governatore gli studenti protagonisti del concorso? C'è l'università quindi il completamento della mia carriera scolastica continuando con l'elettronica, andrò in ingegneria a Torino e sinceramente io voglio dedicare questo premio, non è proprio una dedica è come se io lo stessi regalando alla mia città perché l'ho aiutata, so di averla aiutata e questo mi fa sentire meglio veramente perché posso dire che ho fatto qualcosa per Gela. I miei progetti per il futuro sono andare all'università, andrò nella facoltà di informatica in nord Italia, devo scegliere tra Pisa, probabilmente sono indirizzato verso Pisa e voglio dedicare il premio alla scuola che mi ha permesso tutto di partecipare a questo progetto e di spendermi attivamente in una cosa per quello che mi piace fare, cioè l'informatica è app. Spero anch'io di diventare un ingegnere, questo premio lo dedico soprattutto alla mia scuola e alla mia città perché comunque è solo grazie a loro se noi abbiamo partecipato a questo concorso e abbiamo vinto anche questo viaggio di istruzione a Bruxelles che ci ha permesso di essere, di far parte dell'Europa. Il liceo scientifico e linguistico Elio Vittorini di Gela, diretto da Angela Tuccio, è stato individuato dall'Università di Catania, Dipartimenti Chimica, Biologia e Scienze della Terra, Scuola Polo per la Formazione Scientifica nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche. Domani è previsto il primo seminario dal titolo La Didattica della Chimica Organica negli istituti di istruzione superiore. Sarà presente Guido De Guidi, direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Catania. Il secondo seminario si svolgerà lunedì 16 maggio dal titolo Geni e Genomi nell'era della post-genomica e sarà tenuto da Bianca Lombardo, direttore del Dipartimento di Biologia dell'Università di Catania. Nel terzo incontro, che si svolgerà il 17 maggio, si tratteranno due temi cambiamenti climatici del passaggio geologico e cambiamenti climatici ed effetti sugli organismi marini. Saranno trattati da Lino Cirrincione, direttore del Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università di Catania. Garanzia Giovani, sostegno all'autoimpegno e all'autoimprenditorialità sono i temi che sabato scorso ha trattato l'assessore regionale alla famiglia, politiche sociali e lavoro Gianluca Micciche, l'esponente della giunta Crocette, è stato ospite nei locali della Confcommercio Ascom diretta da Francesco Traenito. L'incontro era finalizzato alla presentazione dello stesso programma regionale Garanzia Giovani e alle modalità di implementazione della misura. Sentiamo. Quando partirà Garanzia Giovani? Ma soprattutto se i soldi ci sono. Proprio la settimana scorsa con il Ministero abbiamo concordato la rimodulazione e abbiamo recuperato 20 milioni dei 30 milioni mancanti. Prevediamo tra maggio a massimo metà giugno di poter ultimare il programma di rimodulazione. Solo allora e avendo calcolato e verificato gli effetti occupazionali di Garanzia Giovani riprogrammeremo la nuova misura che verosimilmente potrà arrivare dopo l'estate dove ci sarà assicurando un cambiamento drastico nel senso che metteremo in coinvolgimento maggiore delle aziende con una maggiore responsabilizzazione quindi le aziende dovranno in parte seppur minima cofinanziare questo tirocino formativo ma soprattutto mireremo all'aumento del bonus occupazionale post-tirocino in modo da dare al ragazzo che si forma un vero bonus, un vero valore che potrà portarsi dietro e agevolare le aziende che li assumono. Invece in riferimento anche alle altre azioni che dovrebbero partire e ci riferiamo soprattutto all'autoimprenditorialità che novità abbiamo? Sono due bandi, la ricollocazione e l'autoimprenditorialità che pensiamo possono essere già operative entro questo mese di maggio quindi immagino comunque prima dell'estate che la coda della vecchia programmazione e tutta la nuova programmazione europea che ricordo sono quasi 200 milioni di euro con delle caratteristiche di finalità specifiche che potrebbero guardare con molta attenzione a territori come il nostro Gela in particolare per la crisi complessa del sistema che sta attraversando può darci molto aiuto. Ma in termini molto più pratici, l'assessorato al lavoro, la regione siciliana come sta intervenendo proprio per quanto riguarda il tessuto sociale economico gelese già colpito da una crisi senza precedenti. Non meno di 20 giorni fa abbiamo raggiunto un accordo storico penso per la Sicilia firmando con i sindacati la destinazione specifica di una parte della cassa integrazione intera che è il 5% in particolare che è la dotazione della regione alle aree di crisi complesse siciliane che voglio ricordare sono soltanto due Termini Milese e soprattutto Gela. In questi giorni stiamo trattando insieme ai sindacati e a tutte le parti sociali per aumentare questa dotazione in modo da assicurare a tutti i lavoratori quando gli è dovuto in via del tutto cui resta ordinaria ed eccezionale. E poi tutta questa nuova programmazione delle politiche attive del lavoro perché parliamo di persone nella maggior parte dei casi che non hanno bisogno soltanto della cassa integrazione o comunque delle politiche passive perché parliamo di aziende che magari poi non esistono più o non ripartiranno. Dobbiamo incentivare invece le politiche attive c'è l'autoimprenditorialità, la ricollocazione strumenti per quei soggetti che non sono giovani ma che hanno anzi un'età media molto alta immagino le centinaia di lavoratori o oltre 50 anni che hanno perso il lavoro e hanno perso anche l'azienda che non ce l'hanno più di dargli un'opportunità in più rispetto agli altri e questo lo stiamo facendo. Intervenire in modo celere alla derattizzazione e alla disinfestazione del quartiere e cantina sociale è considerato che diversi abitanti hanno rilevato la presenza di ratti, zecche e pulci lo chiedono alla giunta messinese i consiglieri comunali Grillini giudice Amato, Farruggia e Morgana il sindaco si legge in una nota è responsabile della salute pubblica di tutti i cittadini gelesi dunque attivi immediatamente tutte le procedure necessarie per scongiurare le possibili trasmissioni di malattie gli stessi consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione chiedendo l'attivazione del servizio navetta sempre a cantina sociale interrotto nell'estate scorsa ripristinato da parte dell'ex assessore Pietro Lorefice e nuovamente sospeso a novembre il servizio non è ripartito provocando gravissimi disagi agli abitanti del quartiere specie alle persone anziane bisognose il Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana ha incontrato alcuni studenti a Gela c'eravamo anche noi, vediamo Preside, la visita di Sua Eccellenza il Vescovo impreziosisce questa giornata così importante? impreziosisce e ci inorgoglisce perché non è facile avere una persona così soprattutto disponibile ma io direi anche così portata a dialogare con i bambini perché questo incontro ci ha dato diversi insegnamenti soprattutto dal punto di vista della comunicazione pur essendo una persona di cultura e quindi una persona sicuramente dotata di un linguaggio tecnico adeguato anche a livello universitario si è saputo adattare veramente con termini precisi al contesto in cui si è trovato quindi io lo ringrazio vivamente per questo è riuscito a coinvolgere l'intera scuola nella sua azione in questo caso fatta con un discorso sulla misericordia e siamo riusciti così a migliorare chiaramente il concetto di misericordia e soprattutto a capire che andare incontro al prossimo lo dobbiamo sentire quasi come un dovere soprattutto se suggerito dal cuore Eccellenza, il dialogo con i bambini è un dialogo privilegiato perché a loro veramente si può insegnare molto ma sono anche molti gli insegnamenti che invece provengono da loro sono i nostri insegnanti se noi riuscissimo a capire che la loro presenza nella nostra vita è una presenza importante di spinta per maturazioni a livello relazionale sempre più vere perché man mano che si cresce purtroppo andiamo perdendo quella spontaneità che dovrebbe invece essere il perno delle nostre relazioni questo noi lo riscontriamo proprio nell'insegnamento dei bambini soprattutto quelli dell'infanzia poco fa dicevamo con il preside come loro riescono a reagire in maniera così semplice come ho già detto spontanea anche a certe reazioni, a certe riflessioni che a volte hanno anche davvero impegnative perché richiedono una riflessione molto seria come la questione della disoccupazione oppure i drammi che vive la società drammi difficili, drammi assurdi a volte di droghe o di dipendenze e tutto questo i ragazzi riescono soprattutto i bambini riescono ad evidenziarlo perché vivono interagendo con il mondo in maniera autentica, sincera per quello che effettivamente essi sono L'accoglienza dello straniero dalle supplici di Eschilo alle immigrazioni dei nostri giorni e questo è il tema di un incontro dibattito promosso dal convegno di cultura Maria Cristina di Savoia preseduto da Flora Montana Santa Maria che si terrà mercoledì 11 maggio prossimo alle 17.30 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Statale Enrico Mattei di Gela. L'evento rientra nel piano delle attività e delle iniziative programmate dall'Istituto come ogni anno l'Istituto Mattei prevede un tema centrale articolato e sviluppato nei diversi ambiti disciplinari quest'anno il tema centrale è identità e integrazione mercoledì 11 maggio sono previsti gli interventi di Agata Gueli dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Enrico Mattei e di Francesco Pira sociologo e docente di comunicazione all'Università di Messina e all'Università Salesiana di Venezia coordinerà il dibattito Flora Montana Santa Maria In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà Lara Seccaccini sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Gela le repliche sono previste alla mezzanotte domenica prossima alle 18 ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi del nuovo albo del Comune di Gela per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata accottimo fiduciario e procedura ristretta semplificata, vediamo sono 109 le imprese iscritte al nuovo albo del Comune di Gela per l'affidamento di lavori mediante procedura negoziata accottimo fiduciario e procedura ristretta semplificata, 70 sono gelesi l'albo si divide in due classi di importo pari o inferiori a 40.000 euro e fino a 200.000 euro e superiori a 40.000 euro è fino ad un milione di euro ed è articolato in due categorie generali e specializzate a loro volta composte rispettivamente da 8 e 7 sottocategorie requisiti necessari sono quelli di ordine generale di idoneità professionale di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria l'elenco subirà un aggiornamento dinamico ogni anno alla fine di gennaio questo è un evento importante è ordinario, diciamo ma è importante perché anche qui dalla gara che è stata fatta dal bando che è stato fatto a gennaio siamo riusciti dopo quasi 4 mesi finalmente ad avere questo elenco è un momento importante perché finalmente potremmo dare anche risposta insomma al territorio cercando giustamente di invitare oltre ovviamente alle ditte esterne anche le ditte chiaramente fiduciarie è un momento importante anche perché possiamo dare una risposta alle tante richieste chiaramente di lavoro che ci sono attualmente il nuovo albo delle imprese di fiducia del Comune di Gela si compone di 70 imprese di Gela e di 40 a livello nazionale ci sono anche imprese di Roma, di Trento, di Bolzano quindi che hanno fatto richiesta di essere inserite nell'albo è un momento importante perché cercheremo di dare ovviamente risposta insomma a quelle che sono anche le richieste del territorio l'Enigroup Club e l'istituto tecnico industriale Morselli insieme nella manifestazione intitolata l'ITIS dipinge 60 studenti e gli allievi dell'Accademia di Pittura Enigroup Club si cimenteranno in un inedito progetto di pittura che nasce da una intuizione di Giacomo Alessi presidente del consiglio di istituto e componente del direttivo dell'associazione dopolavoristica Enigroup Club il progetto prevede due giorni di incontri nei quali verranno realizzati due dipinti di paesaggi moderni su tele con colori acrilici la finalità è quella di avvicinare la cultura pittorica ragazzi che provengono da studi prettamente tecnici seguirà l'andamento dei lavori l'insegnante dell'Accademia del Club Valentina Catalano la manifestazione è articolata in due giornate di incontri la prima il 12 maggio la seconda il 17 maggio nel salone del centro culturale di Viale Corte Maggiore si terrà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presse locali del museo archeologico di Gela la presentazione del romanzo di Vera Ambra Piume, baciatemi la guancia ardente porteranno il saluto della città natale di Salvatore Damaggio le autorità cittadine i presidenti delle associazioni Rotary Club Fidapa, Lions Club del Golfo, Chivanis Proloco, Gela, Archeoclub, Lega Navale Piume, baciatemi la guancia ardente un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente, bersagliere, mitragliere, gelese protagonista indiscusso della grande guerra il libro ha ottenuto il logo ufficiale per il centenario della prima guerra mondiale concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri e anche il patrocinio morale dell'Associazione Nazionale del Fante si sono conclusi intorno alle 23 con i giochi videotecnici vesteggiamenti in onore di San Giuseppe promossi dal Comitato e dai padri agostiniani la festa in città accade la prima domenica dopo il primo maggio tanti fedeli in chiesa e tantissimi hanno seguito la processione per le vie cittadine la festa di San Giuseppe molto sentita a Gela ha fatto riscoprire anche le tradizioni storico-popolari in piazza Sant'Agostino infatti si è svolta la rituale vendita all'asta degli alimenti e dinanzi alla chiesa era presente anche il tipico carretto siciliano l'iniziativa porta la firma dell'Associazione Sergio di Dio di Antonio di Dio nel pomeriggio si è svolto il gioco della pentolaccia più conosciuto come Uyokuto Yajutsu così come accade il 2 luglio in occasione della festa della Madonna delle Grazie anche ieri per San Giuseppe si è tenuta la spogliazione dei bambini la proiezione si è snodata per le vie del centro storico accompagnata dalla banda musicale Francesco Renda continuano le iniziative inserite nel calendario la primavera dell'arte è giunta alla sua quarta edizione promosse dal gruppo archeologico d'Italia Geloi Trischelion in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio venerdì 13 maggio alle 19 nei locali del museo è prevista una mostra archeologica con reperti inediti domenica 15 maggio alle 9.30 ai bagni greci si terrà l'iniziativa archeologia ritrovata valorizzazione e cura del patrimonio archeologico gelese sabato 21 maggio alle 21 alle mura timoleontei chiusura con la notte europea dei musei le mura di notte il 15 maggio sarà celebrata la giornata internazionale della famiglia proclamata dall'assemblea generale delle nazioni unite la celebrazione riflette l'importanza che la comunità internazionale attribuisce alla famiglia intesa come unità fondamentale della società anche a Gela sarà celebrata la festa con un convegno che è previsto per sabato 14 maggio dalla titolo famiglia diventa ciò che sei nella casa della misericordia saranno presenti il vescovo della diocesi di piazza armerina rosario gisana rita morelli psicoterapeuta della famiglia e francesco pira sociologo nel corso del convegno saranno premiati gli alunni delle quarte e quinte classi delle scuole elementari della città che hanno partecipato al concorso parlaci della tua famiglia infine c'è l'informazione cinematografica e il bimbo di vetro il film in programmazione al cineteatro antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari di rotazione della pellicola ve li ricordiamo 17.30, 19.30 e 21.30 al momento non ci sono altre notizie e aggiornamenti grazie per averci seguito fin qui arrivederci grazie a tutti